E' un libro scritto da Domenico Sorrentino, Economia umana, vogliamo spiegare che cosa significa economia umana? Intanto parliamo di Giuseppe Tognolo, un grande economista vissuto a cavallo tra 800 e 900, economista cattolico che oggi ritorna di attualità. Perché ritorna di attualità? Perché ha avuto dell'economia una visione capace di mettere al centro l'uomo, sembrerebbe la cosa più scontata ma di fatto non lo è. Quando Tognolo parlava di economia umana ne parlava in contraposizione all'economia capitalistica e non perché ce l'avesse con il capitale in sé, perché tutti sappiamo che un'economia non regge se non ha anche un sostegno del capitale. Però una cosa è far diventare il capitale un buon servitore dell'economia, altra cosa è farlo diventare padrone. Tognolo era appunto dell'avviso che al centro del processo economico ci deve stare sempre l'uomo e il capitale deve essere a servizio dell'uomo e dunque bisogna stare sempre attenti a non dargli uno spazio eccessivo nella dinamica economica. Deve sostenerla, lui diceva deve essere alleato e seguace dell'umano ma mai prendere il posto. Questo libro è stato presentato già due volte, una volta l'abbiamo presentato a Foligno e un'altra volta a Napoli. Dobbiamo dire che è stato un gran successo e da queste due serate si è parlato tanto di economia, di lavoro, di dignità ma soprattutto la salvaguardia della famiglia. Perché Tognolo partiva dalla radice di questa parola che tutti quanti abbiamo dimenticato. Quando diciamo economia non bisogna subito pensare ai soldi, alla tecnica economica, al processo produttivo. Dobbiamo pensare che eco, la parola eco in questa parola viene dal greco oikos che significa appunto famiglia. Il senso vero dell'economia è la gestione della famiglia, è la gestione della casa. Poi naturalmente dalla piccola casa si passa alla grande casa e dunque da una famiglia si passa alla relazione tra le famiglie, si passa alla società nel suo complesso, si passa alla politica ma il fondo e la sorgente resta sempre questa attenzione alla casa. Se l'economia diventa una realtà della casa, un modo di affrontare il problema della casa, come la si amministra, come la si rende bella, come la si rende funzionale e parliamo della casa di ciascuna singola famiglia ma anche della casa comune dell'umanità, allora le cose vanno bene. Ecco però, cosa intende per casa comune? Poi ho parlato anche di pensieri odebole e anche di valori che sono molto importanti. La casa comune è ovviamente il mondo, questa non è un'espressione del toniolo, è un'espressione di Papa Francesco, il quale volendo fare un gran discorso sulla salvaguardia del creato, oggi abbiamo tutti il problema dell'ecologia, il surriscaldamento, vediamo che le cose diventano sempre più faticose da gestire sul piano ambientale, Papa Francesco ha parlato dell'universo, del mondo come casa comune. In sostanza detto, dobbiamo tutti considerare la realtà come la nostra casa. L'espressione dunque di Papa Francesco ma si ritrova pienamente in linea con il pensiero del toniolo. Se noi vogliamo che un'economia funzioni davvero, bisogna che ognuno di noi senta tutto il mondo che lo circonda come la sua casa e tratti la realtà come la sua casa. non possiamo trattare bene le cose che ci appartengono in maniera privata e poi non trattare la stessa maniera la strada, la scuola, l'industria, il creato, l'ambiente e tutto quello che ci circonda. Davvero siamo in una casa comune. Casa comune. E pensiero debole? Pensiero debole, uso questa espressione nel senso in cui la usano tanti filosofi oggi, siamo in un tempo in cui non c'è più il senso della verità e toniolo questo lo percepiva come un problema del nostro tempo, già al suo tempo questo lo si sentiva ma non così come lo sentiamo oggi. Manca il senso della verità al punto tale che ognuno si costruisce la sua verità e tante volte abbiamo verità contrastanti, contraddittorie, per cui uno la pensa in un modo, l'altro la pensa in un modo totalmente opposto. Ora la varietà del pensiero è una cosa ovvia, ognuno di noi è in cammino verso la verità, nessuno la possiede per intero e dunque dobbiamo avere l'umiltà di dialogare, di confrontarci, di ricercare la verità. Questo è una cosa buona in sé, è qualcosa che ci aiuta a crescere, qualcosa che aiuta a dare al senso critico il suo valore. Però è altra cosa quella di immaginare che una verità non ci sia per nulla, per cui non vale nemmeno la pena di ricercarla. Quando si arriva a questo pessimismo nei confronti della verità può succedere di tutto, perché può succedere che tu dica per me è una verità che non bisogna uccidere. Per un altro può venire l'idea opposta, ma no, ma perché si può uccidere. Quando si arriva a un contrasto della percezione della verità così radicale che ne va di mezzo la vita stessa, ne va di mezzo l'uomo, il mondo, ciò che è la verità delle cose, è quello il momento in cui anche l'economia non sa più che strada prendere, perché può prendere tutte le strade a partire da un semplice interesse individuale. Questo piace a me e allora mi posso permettere di tutto. No, diceva Tonioro, non mi posso permettere di tutto. Mi posso permettere soltanto quelle cose che stanno nella direzione di una vita buona, di una vita giusta, di una vita egualitaria, di una vita solidale, di una vita in relazione. Ecco, avere il senso della verità o perderlo è qualcosa di importante. Tonioro era per la verità, naturalmente la verità ricercata e testimoniata in modo sempre umile, dialogico, ma una verità che si riconosca come tale. Quindi lo stiamo riscoprendo perché lui aveva già previsto questo mondo che stiamo vivendo oggi, già cento anni fa. Davvero, in questo senso è stato un grande profeta. Egli ha previsto alcuni dei fenomeni con i quali noi abbiamo a che fare. Quello che dicevo poc'anzi, questo senso di una verità che non si ritrova più, perché oggi siamo nell'epoca dei social, siamo nell'epoca delle grandi contraddizioni, anche ideali, valoriali. Ognuno prende la sua strada e spesso non si riesce più a capirsi, lo stiamo vedendo in questo periodo di pandemia. Ci sono dei grandi orientamenti ai quali facciamo bene tutti ad attenerci perché ci aiutano anche a star bene. Ma vediamo che ci sono anche dei fratelli, delle sorelle che la pensano in maniera tanto diversa da fare una opposizione persino di piazza. Ecco, allora avere il senso di un cammino comune nella ricerca della verità è importante e questo per Tognolo era, come dicevo, un punto fermo. Ma anche altre cose lui aveva previsto. Aveva previsto uno dei problemi con i quali noi abbiamo sempre di più a che fare. E cioè la solitudine, ognuno di noi diventa sempre più solo e tendenzialmente anche sempre più individualista. Basti pensare alle famiglie di oggi, come sono fatte. Una volta c'erano le famiglie grandi che riempivano davvero le case ed erano famiglie che stavano in relazione con altre famiglie. E dunque si faceva una vita di quartiere, una vita di comunità e non sarebbe mai successo una volta che nella casa fosse restato un anziano solo. Magari, ecco, nella impossibilità anche di avere un accudimento, un sostegno, un accompagnamento. Oggi ci troviamo sempre di più con case sole, con anziani che restano soli. E questo Tognolo lo chiamava il processo di atomizzazione della società. Cioè ognuno di noi diventa sempre più solo. E lo spiegava anche da un punto di vista economico. Lui da economista diceva che l'economia contemporanea, su base industriale, è un'economia che fa fatica ad accettare l'uomo in relazione. Ha bisogno di rendere l'uomo sempre più solo perché ha bisogno di trattarlo come una pedina che oggi ti serve qui, domani ti serve lì. In un mondo in cui c'è una competizione selvaggia, un mercato che ci pungola in tutti i modi. Si cerca il profitto a qualunque costo e quindi si ha bisogno poi di una forza lavoro che sia il più possibile frammentata. Perché nel momento in cui tu dici al tuo datore di lavoro, guarda però che io ho una famiglia, guarda che ho degli affetti, guarda che ho un territorio a custodire, e il datore di lavoro è sempre più tentato di dire ma allora non mi servi perché a me c'è bisogno che oggi uno mi serva qui, domani che mi serva lì. Tognoro aveva previsto questo processo di frammentazione e lanciò il grido di allarme un secolo fa dicendo che bisogna che la società reagisca a questo processo, reimparando la logica della relazione, quindi ritessendo relazioni. E fu per questo l'economista che teneva tanto alle cooperative, teneva tanto anche ai sindacati, teneva tanto alla partecipazione all'interno della fabbrica. Cioè tutto quello che può essere il mettere insieme le forze perché ciascuno non si ritrovi solo, non si senta solo e non si è abbandonato a se stesso. E che l'uomo non diventi la macchina. Questo è un altro degli aspetti importanti che gli metteva in evidenza. Vedeva al suo tempo l'industria che oggi si suol dire 1.0, quell'industria che cominciava ad avere a che fare con i motori, l'industria che si realizzava nelle ferrovie, nelle industrie dei tessuti, nell'industria anche del ferro, dell'acciaio, le industrie che abbiamo conosciuto e che hanno fatto un'epoca dell'economia. Non erano certamente l'industria che oggi diciamo 4.0, l'industria del computer, l'industria dell'informatica. Oggi siamo a tutto un altro livello. Però i processi restano sostanzialmente affini e cioè sempre di più nel mondo industriale l'uomo tende ad essere sostituito dalla macchina. Io ho avuto modo di fare una considerazione in base a delle statistiche che Tonioro non poteva avere, ma di cui in qualche maniera era profeta, cioè prevedeva che saremmo arrivati a questo, quando ho sentito che in una grande area industriale dell'America, la famosa Silicon Valley, con le maggiori industrie, della industria più progredita, nel giro di 25 anni le cifre che sono emerse sono queste, che 25 anni fa c'erano per le stesse industrie circa un milione e mezzo di impiegati e di operai, dopo 25 anni con un fatturato che è cresciuto, con macchine che sono diventate sempre più raffinate, l'impiego della forza lavoro è scesa addirittura a qualcosa come 130.000 o 150.000 persone, un abbattimento proprio della presenza dell'uomo dell'industria. Le macchine hanno sostituito, ora non è detto che questo debba accadere per forza, però è un campanello d'allarme che Tonioro aveva già 100 anni fa fatto sentire nella storia dell'umanità e dell'economia ed è una realtà con la quale ci dobbiamo assolutamente confrontare. Quindi cambiare mentalità, convertire. Eh sì, ecco, di fronte a cose di questo genere ci sono delle riforme da fare che attengono alla vita politica, alla vita economica, alle grandi dimensioni della convivenza, però con le grandi dimensioni della convivenza non si cambiano se ciascuno di noi non si converte, cioè se non comincia a pensare con valori nuovi, con idee nuove, con sentimenti nuovi, perché poi le grandi realtà sono fatte dalle persone. Dunque, se le persone vivono una certa condivisione ideale, la fanno poi passare anche ai grandi livelli decisionali, le fanno passare ai livelli delle decisioni delle grandi banche, ai livelli parlamentari, ai livelli della cultura, ma tutto poggia sulle gambe dell'uomo e cammina con le gambe degli uomini. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo ripartire dagli ultimi. E questo è un altro degli aspetti che a Tonioro era tanto caro, e direi anche in questo è stato un profeta. Oggi lo vediamo con la pandemia. Ci stiamo attrezzando per superarla, però il fatto che non siamo attrezzati abbastanza per fare tutto questo in senso mondiale, tenendo conto della situazione dei paesi più poveri, a che cosa ci porta? Ci porta a non risolvere il problema. Il problema si risolve se lo impostiamo e lo risolviamo per tutti. E per impostarlo e risolverlo bene bisogna partire dagli ultimi. Un po' come succede nella famiglia. È una famiglia che si rispetti, che abbia conservato la natura di famiglia, oicos, economia, dicevamo, è partire dalla famiglia. Ma cosa avviene in una famiglia? Facciamo un esempio più semplice. È una famiglia in cui ci siano tre, quattro figli, c'è tra questi figli uno che è più fragile, dove va l'amore, la cura prevalente dei genitori. Se è una famiglia che sia degna di questo nome, la cura prevalente va al figlio più debole. Si comincia sempre dal figlio più debole e non lo si lascia per ultimo. Ecco, Toniolo diceva, se dobbiamo ridisegnare il mondo dell'economia, il mondo della società, il mondo della politica, dobbiamo partire dagli ultimi. Non lasciarli per ultimo, ma metterli al centro dell'attenzione e da qui ridisegnare il tutto. Allora, perdoni la curiosità, questo è il libro. Ecco, Domenico Sorrentino, economia umana. Però, la mia curiosità è questa. Perché ha messo la foto del Toniolo soltanto che si vedono gli occhi o poco più? Beh, questa è una mia scelta, un suggerimento che ho dato all'editore e il quale mi ha chiesto quale immagine del Toniolo io preferissi. E ho detto, guardi, mi piace una immagine in cui del Toniolo si vedano soprattutto gli occhi. Gli occhi che guardano lontano, occhi penetranti, perché tutti abbiamo gli occhi per vedere, ma tante volte finiamo col vedere un po' la punta del nostro naso. Abbiamo bisogno di uomini che sappiano guardare lontano, dobbiamo imparare tutti a guardare lontano e per questo abbiamo bisogno di maestri che l'hanno saputo fare. Perché questo è un maestro che cento anni fa ha saputo vedere il nostro presente, probabilmente ce ne possiamo fidare anche per vedere il nostro futuro.